Ciao Max, ciao Babilonia, ciao Beautiful Losers, sono qui per parlarvi di Tales of Loving Hearts che è un album speciale dedicato a Robby che ci ha lasciato più di un anno fa. Robby amava molto gli animali e per questo Max ha deciso di destinare tutti i proventi del CD al rifugio cane amico di Silmeri in provincia di Palermo. Max ha deciso di destinare i proventi a una piccola realtà piuttosto che alle grandi associazioni dove ci sono troppi intermediari. Sono qui in compagnia con la signora Anna Maria che gestisce questo canile. La signora non vuole essere ripresa, vorrei fare qualche domanda quindi sentirete soltanto la voce. Signora, mi sono arrivati effettivamente i soldi di questo canile? Sì, 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 mi sono arrivati i soldi che Max ha destinato a me e sono stati usati per questioni molto valide sia per cibo che per medicine. Io ringrazio innanzitutto Max e poi ringrazio tutti coloro che hanno acquistato questo CD e hanno fatto sì che sia il sogno di Max e anche quello mio di poter acquistare dei farmaci che in questo momento servivano e io non potevo diventasse realtà. Grazie a tutti. A posto. Grazie alla signora Anna Maria, grazie a tutti voi Beautiful Losers da parte mia, da parte di Daniele, è tutto. Ciao. Grazie a tutti.